Ciao a tutti, mi trovo oggi a Cagliari, una bellissima giornata, mi trovo con un carissimo amico, lui si chiama Francesco Pilutti ed è originario di Udine, del friù di Venezia Giulia, e Francesco, da quel poco che l'ho conosciuto, è un bravo ragazzo. Francesco, un saluto per voi. Sì, volevo salutare tutti quanti, volevo salutare Luca Cocco, ringraziarlo di essere passato da qua, di avermi coinvolto, spero che in futuro riusciremo a fare qualche collaborazione, magari qualcosa di più interessante anche per voi. Un saluto a tutti i ragazzi, un in bocca al lupo a questo grande organettista che adesso sta andando a suonare. Grazie Francesco. Allora, voglio salutare tutti i miei fan del talent show di Londra, con una canzone popolare, una canzone bellissima, una canzone che canterò insieme a Francesco, Il Pescatore. Si era sopito il pescatore, aveva un solco lungo il viso, come una specie di sorriso. La 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 la. Grazie a tutti. Ciao ragazzi. E da Francesco Pilutti. E da Luca Cocco. Ciao, un abbraccio.